Funziona Pipantion? Flosh Giorgio è arrivato il tempo Ora posso suicidarmi Posso farlo anch'io I can do this Non lo so sinceramente se funziona Pipantion Giorgio Perché ho visto un po' i danni E facevano cagare i danni in base Lo skilling è uguale Ma i danni in base Non lo so sinceramente No lo so sinceramente Ho Lo so rompere Non lo so rompere Ho Lo so rompere Lo so rompere Nel Giorgio, tu dopodomani giochi? Dopodomani che giorno è? Eh? Dopodomani che giorno è? 23 È lunedì? No, dopo Non è dopo domani È domani No, domani è Ah Ah, ok 24 Perché non devo andare a negozio Quindi io gioco tutto il giorno Teoricamente Poi dobbiamo scegliere cosa giocare Vuoi giocare a Nostalge? Io ho finito di scaricare ieri Poi, poi, tu, tu, tu Se puoi Vieni e facciamo Book up oppure chiama soffrire Non ci vuole molto Sinceramente per la La parte più difficile sono i 3 milioni E quelli ce li do io in caso No Non mi sembra E più che altro, Giorgio Se non ti va di farmare Neanche con la piccola parte là Non credo che giochiamo orviu' tanto Perché Nostalge è tipo Far Ma tanto Ma tanto Mi sa che Inno Sei bloccato con Terraria Voglio giocare Terraria Tu l'hai comprato anche Perché non ci stai giocando Voglio prendere l'orb Che ti serve l'orb? Tanto è un danno Mi piace più la grafica vecchia Questa nuova è troppo Disney Perché la gente Ha avuto una tira Grafica Disney Tutto luminoso Dicono che è carino Ma fa schifo Io vedo qualcosa di più dark Almeno qualcosa Che non sia luminoso Come un cartone Tutto luminoso Tutta l'illuminazione Tipo al cento per cento Why Allora Per ora mi buildo Con le tali Poi quando trovo la ulti Per vedere Vediamo cosa succede Che sei tu Ah Guarda un po' i scaling No? Ehm Più zero Non dai appi Sto guardando su internet Ah Allora Non credo I don't think that Twitch Se io metto la La pompa su di te Oh shit E poi Tu vai invisibile Accanto al mio Cento 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 Non mi piace Comunque ti spingi due volte E te la nulla Ok Non ho scoperto la turba Non mi riporte Neanche perché l'ho scoperto Non mi spingi due volte E te la nulla Ok Non ho scoperto la turba Oh fuck, che si fa? Eh che si, volevo la part però c'è pure la zia Ma sai come è Scythus? Eh non lo scordiamo perché era Scythus Oh what? Oh fuck L'ho ucciso di attacco ciccio L'ho stirata la fida per se non è Sfaccio Qui doveva avere a P o no? Per te Però sono troppo time Poverdo Ah manca un poro, chi ha mancato un poro? Oh si Poi ho un minimo attacco di fanico ogni volta che mi arriva un poro Poi mi ricordo che ne ho detto che mi vanno in faccia per fare il poro Prendete... Ha mancato Fa schifo Infatti io ho preso quattro poro E ci sono nove totali quindi io non so che che fa schifo Prendete 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 Questo gioco è soggiorno troppo velocemente Se glielo dicevi ti ho fatto Eh vado più, ho deciso Perché? Siamo già tutti a più Vabbè siamo già tutti a più, sono divertiti Siamo già tutti a più perché quei due AD sono ADK Quindi non contano neanche perché hanno un supporto E sono caspita, sono io il supporto Che erano tutti? Erano tutti i due, tutti i due nostri ADK E erano tipo covacciati o fregando lì Ah, è perfetto Panky Non so fare sta cosa Non ricordo Stai facendo questo disagirato Non dovrebbe fare questo Vedete Panky Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Grazie Eccolo Lea c'è? Le mie sono un espermio support Non quelle Zahra Credo che le mie C'è un support Non Zahra Zahra Ha un root Zahra Alla bar È l'unico motivo perché ho preso questa scelta Cioè non vorremmo neanche giocare Semplicemente un support Ma fa più schifo Un cazzo di danni Quanti danni in base fai? Tipo 2 3 300 Fai almeno Fai almeno Ah no 300 300 Per il piccolo e il mezzo C'è ancora un mezzo Al 50% nel resto della zona Quindi 550 Non mi ha autato Mi sa che era meglio le tali C'è ancora un mezzo Allora fa ancora più schifo di contenza Ma perché non state usando i biscotti? Perché Cioè ne stavo usando quello lancia a fiamme Non puoi usare E' l'incognito che ha messo lancia a fiamme Lancia a fiamme Lancia a fiamme Per usare Per uccidere le torre Ehm Chi è che ha lancia a fiamme Tra di noi? Eh sì Draven Ehm Ah Ha Fiamme Ma io se Ehm l'icentara La C'è Ah shook Saga Kurfi GOD SON Me Su Ehm SON enes SON . Grazie a tutti. Grazie a tutti. Infatti mi chiedo ma che putti schifosi consigliano? Cosa mi serve questo? Posso sfammare? Ok, però posso farmi il rabato nell'utile e lanciare due Q che contano come 70? Forse non lo si è tanto. 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 Forse non lo si è tanto Ah PAM 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 Oh Se hai una vita che quando rigenero il vita sembra che stai rigenerando il... Puoi caricare la Q, andare col foro e tutto? No, non credo Quasi Quasi C'e Ah Ancora la ulti? Ancora la ulti? Ancora la ulti? E avere due dichiarity pompeggio, ma... Perché far avere questi due dichiarity pompeggio? In Aram quando sono tutti... Guarda! E' bravo bandido! Oh Penta Penta! Vai! Penta qui! Guarda che ho perso tu, lo credi? Perché stai recuperando vita quando ho usato la Q? Avete visto aggiungere più 40 quando ho usato la Q? Vedo? Dottore! Perché non c'è più? Qu'è?! gioco ma perché ha sempre l'ult per me questo tizio la quinta o la sesta volta che mi ulta tipo se sono 27 minuti perchè ci non fa danno? strano dove sto facendo danno? fammi contare spontaneamente una volta tanto però se guardate a mumu com però forse ok perchè non l'ho fatto prima un colpo? ha l'ult quella guarda guarda come l'ho fatto se gliela faccio tirare fuori è vuota hai tirato fuori l'altro posso sbittare un po' oh 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 sei oh 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 Quattro lo vedi un piccio di attacca è come se non stessi attaccato perché contro di me il culo che faccia dentro di voi scappa via quando il bomba ah Ah I I I I I I I Why Always what Oh Oh Fuck Too fast Braa Ma che cazzo Vuoi multarti Aspettaci Ah Che fa perchè la la lady zila non scada più a p Un tempo scalava a p Faceva la stessa speed di sonno Ah Non lo so più Non lo so neanche io Quello che non lo sappia neanche raglio che questo Aspettaci Giorgio ma se io uso questo E poi uso la e Curo Ma mi va di provare Poi è una cosa Questa è una sui mani pinto Non te la cura Quindi assist Or whatever you do Oh 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 Troppi pochi danni Giorgio Ti si arrivano a 30 Ti si arrivano a 30 Giorgio Ormai Non credo sarebbe cambiato molto Sì Avessi deciso Dove andare in full speed E una 30 Perchè adesso Perchè io sapevo che sarebbe successa questa cosa E che sarebbero arrivati a questo Perchè tu non lo sapessi saputo Di che altro Ma I nostri Di che Hanno vissuto A parte